Allora, agganciamoci al fine della lezione precedente e vediamo che, come dicevamo, il tipo di programmi che sapevamo svolgere erano limitati dal fatto che non sapevamo come fare ad acquisire i dati su cui lavorare, cioè come fare a far sì che il programma potesse effettivamente acquisire i dati. A questo punto ci ricordiamo del meccanismo di esecuzione del programma, cioè noi stiamo scrivendo un programma in Python che viene eseguito dal computer, ma poi nel momento in cui questo programma è in esecuzione ci sarà un utente che è seduto davanti al computer e può interagire col nostro programma, quindi non più con PyCharm, con Vide o con l'ambiente, ma direttamente fornire dati, leggi e risultati dal nostro programma. Noi possiamo immaginare che questo utente sia una persona diversa da noi, perché sono i due momenti separati, quella della scrittura e costruzione del programma dove c'è il programmatore, l'utente programmatore, rispetto all'esecuzione del programma dove c'è l'utente finale, in certo senso, di quel programma. E le due operazioni fondamentali perché un programma possa interagire con l'utente per ora in modalità testuale, non abbiamo in otto crediti il tempo purtroppo di fare anche interfacce grafiche, sono appunto la visualizzazione di informazioni, l'output che di fatto è gestito dalla funzione print che già conosciamo e da tutte le composizioni delle stringhe che ci permettono di printare, di stampare, di visualizzare ciò che vogliamo nel formato che vogliamo. Vedremo qualche approfondimento proprio sulla formattazione dell'output se volessimo incolonare le cose o lo vedremo più avanti, oggi, nella prossima mezz'ora. E l'altra operazione invece che finora non abbiamo visto è quella di input, in cui il programma chiede all'utente, vogliamo fare un programma che risolva il triangolo di pitagora, il triangolo di rettangoli, allora ho bisogno di sapere i due lati per poter calcolare il terzo. Allora il programma dovrà chiedere all'utente, dimmi quanto è lungo il primo cateto e dimmi quanto è lungo il secondo cateto. Allora questo lo si fa con un'operazione di input che guarda caso in Python corrisponde a una funzione che si chiama input. Allora ogni volta che io chiamo la funzione input che riceve un parametro di tipo stringa che altro non è che il messaggio che viene stampato video per dire all'utente, senti adesso inserisci questo dato, ogni volta che chiamo la funzione input il programma si ferma, l'esecuzione del programma si blocca per un attimo e aspetta che l'utente inserisca qualcosa e termini l'inserimento col tasto invio, col tasto enter. A quel punto ciò che l'utente ha scritto viene raccolto sotto forma di stringa, sempre e solo e unicamente sotto forma di stringa e ne viene restituito il valore della funzione input stessa che poi noi 99 volte su 100 andremo a memorizzare in una variabile. Quindi il valore effettivo di questa variabile name quando il programma verrà eseguito dipenderà da ciò che l'utente avrà scritto in risposta a quella domanda inserisci il tuo nome. Ok? Quindi vediamolo su un programmino di esempio stupido stupido, chiamiamolo lettura dati, quindi faccio un nuovo programma python nel progetto e andiamo un po' il testo, esercizi del tuo dati. Allora io se riplico quella riga che c'è scritta nella slide nome uguale input come ti chiami e poi sotto posso stampare print il tuo nome due punti e poi il valore della variabile. Quindi l'istruzione che stiamo esaminando è questa, input cosa fa? Si ferma, anzi prima stampa questo messaggio, poi si ferma, aspetta che l'utente scriva qualcosa, quando l'utente è finito di scrivere l'intera istruzione di input restituisce un valore, il valore di questa funzione è la stringa scritta dall'utente e quindi dentro la variabile nome andrà a finire assolutamente una stringa, un valore di tipo stringa che poi noi qua stiamo stampando semplicemente per vedere cosa succede. Quindi se io faccio il run di questo esercizio, il programma vedete che parte nella console di esecuzione, quindi nella tab run che c'è qua sotto e stampa esattamente il contenuto di questa stringa in modo che l'utente sappia cosa scrivere, io poi scrivere, posso scrivere la risposta, in questo momento l'esecuzione del programma è bloccata dentro la funzione input, ok? L'unico modo per uscire da questa funzione input è scrivere qualcosa e battere invio. Quando io scrivo il tasto invio, inserisco il tasto invio, allora ciò che ho scritto da qui a qui, verrà in questo caso memorizzato dentro la variabile nome e poi vedo ovviamente che l'ho appena stampata e quindi è finito lì dentro. Quindi non c'è nulla di più da fare se abbiamo bisogno di acquisire dei dati di tipo stringa. Poi speriamo che l'utente ci dia dei dati puliti perché se l'utente ci scrive, non so, spazio, 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 full view, spazio, 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 invio, questi spazi ovviamente facendo parte di ciò che l'utente ha scritto sono parte della stringa risultante. Quindi non è proprio il nome, no? In questo caso è un input un po' sporco, un po' disordinato, quindi andrebbe ripulito prima di essere usato. Però quello sarà eventualmente poi la logica del programma che dopo che ha acquisito il dato verifica se è valido, verifica se questo qui anziché scrive il suo nome ha messo una cosa di questo genere che per carità se fosse un marziano probabilmente è un nome valido ma magari non è accettabile. Quindi tutte le volte che acquisiamo un dato dall'esterno siamo nelle mani dell'utente e non sappiamo che cosa farà. Speriamo che inserisca un dato sensato ma il programma per essere robusto dovrebbe dopo che ha acquisito un dato fermarsi un attimo e fare una serie di controlli per verificare che il dato inserito abbia senso per la prosecuzione del programma stesso. Questo ce ne occuperemo più tardi ma purtroppo ogni volta che eleggiamo un dato dall'esterno è facile fare un programma che funzioni se i dati sono sempre puliti, sempre corretti. Purtroppo non sapendo quali dati arrivano il programma deve un minimo proteggersi rispetto finché devo stampare, paziente, hai scritto una schifezza ti stampa una schifezza ma se dovessi fare delle elaborazioni su questo magari non ha senso. Anche se l'utente non mette nulla e semplicemente scrive invio verrà restituita la stringa vuota, una stringa di lunghezza zero e in questo caso viene poi stampata ovviamente la stringa vuota che chiaramente è invisibile. Tale quale ciò che l'utente scrive me lo ritrovo dentro questa stringa e ci posso fare ciò che voglio. Quindi già noi sappiamo ad esempio che essendo una stringa io posso magari stamparla in maiuscolo e quindi se io scrivo il nome così lui me lo stampa convertito in maiuscolo, convertito in minuscolo, ho girato al contrario, quello che volete. A questo punto è una stringa che ho nel mio programma e ci posso fare ciò che voglio. Tutte le operazioni sulle stringhe che abbiamo visto. Se invece il dato che devo leggere fosse un dato numerico, quindi quanti anni hai, e la input mi restituisce solo sempre una stringa. Se il dato che sto leggendo è un dato numerico dovrò prendere quella stringa e convertirla in numero. Come convertire una stringa in numero? in realtà lo sappiamo già, basta usare la funzione int che funziona se la stringa effettivamente contiene il numero dicevamo. Quindi se voglio chiedere anche quanti anni hai, scriverò l'input, quanti anni hai, e il risultato di questo input è una stringa. A me serve un intero, quindi magari lo metto, lo parcheggio in una stringa così temporanea, chiamiamola S, e poi perché il numero, l'età effettiva, gli anni, saranno la conversione sotto forma di intero del numero che è presente nella stringa S. Ok? Non posso dire all'input, legge un numero. L'input fa una cosa sola, legge una stringa. Questa stringa, se a me serve sotto forma di numero, poi me la devo convertire. e poi ovviamente a questo punto possiamo dire sei nato nell'anno, cos'è? 2021 meno gli anni che hai. Giusto per non stampare lo stesso numero, no? Quindi se io eseguissi questo mi chiede come ti chiami, Fulvio, no, non devo scrivere qua sotto, quanti anni hai, evidentemente 25, e mi dice che sei, sono nato quindi nell'anno 1996. Quindi ho acquisito questa S che è una stringa fatta dal carattere 2 al carattere 5, poi la funzione int ha estratto il valore decimale presente in questa stringa. Noi lo possiamo vedere anche in modalità passo passo, se eseguiamo il programma in modalità passo passo, quindi entriamo in debugging, il programma è partito e si è subito fermato sulla prima istruzione perché in realtà scusate non è entrato in modalità passo passo, entriamo in debug, sapete che a volte ha questo difetto che interrompiamo, facciamo debug, ho messo un breakpoint sulla prima istruzione scusate, è un difetto per cui a volte la prima istruzione non alla seconda dovrebbe funzionare ok, ce l'ho fatta, scusate, allora ho messo un breakpoint sulla seconda istruzione perché sulla prima non sempre funziona e poi ho eseguito il programma in modalità debug, quindi posso andare passo passo, ho bloccato l'esecuzione a questa riga e infatti il programma è fermo prima di eseguire la input ok, non ho ancora nessuna variabile definita perché non ho ancora fatto nulla quando eseguo la prossima istruzione, sulla console mi ha solamente scritto questo ciao che era l'inizio qua sopra adesso eseguo la prossima istruzione step over e nell'esecuzione dell'istruzione di input il programma ovviamente si ferma e aspetta che io scriva qualcosa se in modalità debug me lo scrive sulla riga sotto anziché fianco ma è un dettaglio ci scrivo il mio nome e vedete che il programma è bloccato su questa input quando io batto l'invio il programma si sblocca, riparte, finisce la input e si predispone a eseguire la print successiva se io vado a vedere il debugger mi fa vedere che il nome è stato creato la variabile nome che ha un valore tipo stringa che contiene il mio nome la print non è nulla di speciale ha stampato il mio nome in maiuscolo quando faccio questa seconda input dell'età devo ovviamente tornare nella console e scrivere il numero batto invio e vado a vedere cosa è successo io ho inserito 25 questo 25 è stato memorizzato in s ma s come vediamo è un valore di tipo stringa str25 perché input non lo sa che quello deve essere un numero sono poi io che subito dopo prendo questa s e applico la funzione int per convertirla in un intero che memorizzo nella variabile anni e a questo punto posso farci dell'arimetica sopra io qui non avrei potuto scrivere 2021 meno s perché s era una stringa avrei avuto un errore non posso fare una sottrazione tra un intero e una stringa neanche una somma ma ha maggior ragione una sottrazione quindi devo proprio prendere quella stringa e convertire il numero intero in modo da poter fare le operazioni arimetiche su quel numero intero ok? questo funziona qui abbiamo sempre due variabili la stringa che ho appena letto e la variabile numerica vera e propria che volevo leggere le cose funzionano bene finché l'utente inserisce dei valori sensati perché se il nostro utente è così simpatico da scrivere il suo nome va bene e poi come età scrive k2 faccio invio il mio programma leggerà correttamente la stringa k2 nella variabile s ma poi alla riga 9 quando cerca di convertire la stringa k2 in un numero intero mi dirà che vedete il messaggio di errore alla linea 9 su questa istruzione c'è stato un errore un value error perché c'è una costante non valida nella definizione di un numero in base a 10 in questo momento adesso non sappiamo cosa farci nel senso che il programma si blocca se l'utente inserisce un dato che non è numerico il programma si blocca dovremo imparare nella prossima mezz'ora a gestire questo tipo di errore fare in modo che il programma prima di tentare la conversione in intero facesse un controllo queste due operazioni la lettura e la conversione io qui l'ho scritta su due righe diverse ma ovviamente le potrei anche scrivere in un'unica riga input restituisce una stringa e questa stringa viene immediatamente una funzione che chiama un'altra non è un problema questa stringa viene immediatamente convertita in intero il problema è che qua non ho nessun modo di controllare la stringa che ho ottenuto prima di provare a convertirlo in intero quindi qua è più breve ma non mi permette di controllare gli errori o di evitare che il programma si blocchi in questo modo a parte questo non c'è altro direi diciamo così da dire su quest'unica funzione input fa solo una cosa la fa decentemente legge una stringa poi sono tutti fatti nostri che cosa ce ne facciamo di questa stringa ok quindi il problema sarà poi a livello di controllo del programma elaborare correttamente questa stringa allora questo ci permette di prendere gli esercizi della volta scorsa è di dire anziché inserisci dei dati dentro il codice del programma ma leggi direttamente dall'utente la versione semplice è leggili e supponiamo speriamo che l'utente scriva dei dati sensati e quindi li uso tranquillamente li converto e li uso nel caso in cui siano dati numerici altrimenti il programma vedete che si complicherà molto di più in molti programmi è più lunga la parte di controllo dei dati che non quella di elaborazione vera e propria ok per l'input per l'output voi mi dite ma sì l'output lo so già fare ma hai spiegato la print l'altra settimana sì assolutamente però a volte è un pochino diciamo così la print ci dà poco controllo su come compare l'output ok io qua ho stampato questa cosa qua sei nato nell'anno che sono 2021 meno anni va bene e mi ha stampato adesso mettiamoci i dati veri 25 è un dato vero mi ha stampato questo spazio qua questo spazio ce lo mette la print non lo posso decidere io ok se fosse un numero reale se volessi stampare se volessi stampare un numero reale quindi dovessi stampare 3,77 mi stampa 3,77 ma se io volessi stampare un terzo mi stampa questo numero con tante cifre decimali quante vuole lui e se io ne volessi solamente due o tre voi mi dite vabbè abbiamo imparato l'altra volta prendi il numero fai il round di questa cosa qui prima di stamparla dicendo io voglio solamente due cifre decimali però dovrebbe esserci un modo di dire semplicemente quando lo stampo stampalo in questo modo io ho un numero n uguale un milione e voglio stampare n e mi stampa un milione così allora questo numero 1,6 1 per 10 alla sesta e 1,000 punto 0 sono lo stesso numero uno però ha visualizzato in notazione scientifica l'ho scritto così l'altro ha visualizzato invece in notazione normale perché python ha deciso che un milione andava bene stamparlo così probabilmente se io avessi cercato di stampare n per n per n avrebbe deciso che era meglio stampare in notazione scientifica questo lo decide lui allora nel 90% dei casi ciò che decide la print mi sta benissimo e se mi richiede zero lavoro sono disposto a essere contento con poco ma ci sono dei casi in cui magari io ho bisogno di un controllo maggiore magari devo stampare dei dati incolonnati quindi devo avere una certa lunghezza fissa il numero di cifre decimali deve essere lo stesso per tutti i numeri che stampo quindi non lo voglio lasciare decidere a lui perché ad esempio il round non è che funziona sempre io ho fatto vedere il trucchetto del round per stampare un terzo con due cifre decimali però se anziché stampassi un terzo dovessi stampare un numero intero 7 mi stampa 7 non 7,00 o se avesse un numero una cifra decimale sola due quinti due quinti mi stampa 0,4 non 0,40 perché il round lavora sul numero e se il numero è 0,4 la print stampa 0,4 perché deve aggiungere un 0 così oppure 2 oppure 3 che ne sa stampa è il formato più ragionevole secondo il suo algoritmo interno della print ok se questo ci va bene ok se non ci va bene come possiamo fare? ecco possiamo avere delle istruzioni di formattazione delle stringhe perché parlo di stringhe mi hai fatto l'esempio con i numeri adesso mi parli di stringhe ma perché in realtà ciò che fa la print è prendere il numero convertirlo in una stringa e stamparlo come stringa questa conversione la fa internamente noi non la vediamo però quando parliamo di formattazione stiamo parlando non del valore numerico ma stiamo parlando del 1.33 cioè della rappresentazione carattere dopo carattere di ciò che stiamo stampando quindi il trucco qual è? anziché dire alla print senti questo è un numero convertilo tu come vuoi posso io prepararmi una stringa come piace a me e dire alla print stampa la stringa ok allora in python ci sono almeno 4 modi per riuscire a costruire una stringa col formato che piace a me il primo è quello più grezzo concatenazione di stringhe prendo il messaggio ci concateno str del numero poi se questo str è troppo lungo troppo corto faccio uno slicing l'estraggo dei pezzi eccetera metto da basso livello costruisco un pezzo per volta la stringa che mi serve semplicemente doloroso poi ci sono tre invece metodi diciamo così più molto più efficaci efficienti comodi che sono citati qua le cosiddette f-string un operatore di formattazione che si chiude per cento e un metodo delle stringhe che si chiama format ok di questi tre metodi noi vedremo il primo le f-string perché è quello più moderno e più comodo da eseguire ok quelli che nel secondo semestre fanno informatica elettronica e quindi fanno linguaggio c vedranno un metodo di formattazione che è molto simile a quello che esegue l'operatore per cento in python qui ci sono le slide che noi salteremo a pie pari che spiegano un pochino come funziona l'operatore per cento però è inutile che perdiamo tempo a vedere tre modi diversi quando ce n'è uno che funziona meglio degli altri e per la maggior parte di noi può andare bene così quindi che cosa sono questo è un esempio in cui ci sono i quattro metodi al confronto immaginiamo di dover stampare che l'area del cerchio di raggio 2 vale il numero che vale 4 per pi greco fa 12 e rotti quindi posso costruire un messaggio costruendo concatenando vedete qua ho fatto delle stringhe e le ho concatenate tra di loro l'area del cerchio di raggio è una stringa costante poi mi serve il valore di r però non posso sommare più r direttamente nella stringa devo prima perché stringa più float non si può fare allora prendo il float r lo converto in stringa e a questo punto lo concateno qui lo spazio ce l'ho messo io perché la print non ce lo metterà più cosa vede la print? la print vede aperta tonda un'unica stringa chiusa tonda questa stringa l'ho costruita io concatenando i pezzettini che mi servono molto poco leggibile perché entro esco esco dalla stringa più funzione conversione più riapro la stringa un altro pezzo di testo richiudo la stringa riesco eccetera eccetera la stessa cosa con le f stringhe si scrive così io apro una stringa non semplicemente con l'apice ma con un f messo davanti dicendo questa stringa contiene delle istruzioni di formattazione quindi lui legge questa stringa in un modo particolare e in particolare va a ricercare delle parentesi graffe dentro la stringa allora normalmente se io metto una parentesi graffe dentro la stringa questa viene stampata tale e quale con una parentesi graffe in una f string allora invece la parentesi graffe indica che c'è un comando di formattazione lì dentro e cosa ci metto dentro le parentesi graffe ci metto il nome di una variabile il cui valore voglio stampare quindi senza fare cose complicate è come quando metto r tra parentesi è come dire ok qui c'è la stringa poi qui a un certo punto in questo punto della stringa concatenaci un altro pezzo di stringa che deriva dalla conversione di r cioè fa esattamente la stessa cosa che facciamo qua sopra ma lo fa in modo molto più leggibile senza sintassi diciamo così antipatica chiudo virgolette più eccetera riapro le virgolette quindi questo è il modo più veloce per stampare un messaggio che contenga una parte costante e una parte diciamo così che dipende dalle variabili del programma interpoliamo si dice inseriamo all'interno la variabile da stampare tra parentesi graffe e perché python interpreti queste parentesi graffe ci mettiamo una f davanti alla stringa punto gli altri due metodi sono riportati qua sotto poi vediamo i dettagli gli altri due metodi sono riportati qua sotto solo come confronto il metodo col percento che richiama per chi conosce il c la funzione printf io definisco il messaggio che voglio stampare e poi ci metto dei caratteri speciali per dire qui voglio stampare un numero reale qui voglio stampare un altro numero reale e poi in python in realtà uso questo operatore per cento e riporto fuori dalla stringa i valori che devo stampare quindi il primo valore andrà a finire nel primo posto il secondo valore nel secondo posto questa f indica che è un numero floating point se fosse un numero intero usare la d se fosse un numero in base a 16 usare la x è tutta una serie di codicilli che devo conoscere perché questo funziona poi c'è una versione intermedia che è il metodo format che è un metodo delle stringhe che anche lui usa degli segnaposto un pochino più leggibili e poi però deve passare anche lì i valori fuori questi tre metodi il primo il terzo il quarto sono scomodi perché in qualche modo separano la parte testuale della stringa dal valore che devo stamparci perché qui devo stampare una cosa il cui valore ti viene detto fuori devo stampare un qualche numero reale la cui variabile corrispondente ti viene detta da un'altra parte quindi immaginate leggere un codice dovete avere un occhio a sinistra sulla stringa un occhio a destra sull'elenco delle variabili per capire cosa sto stampando in un certo punto mentre con la stringa questi problemi in qualche modo non ci sono quindi il funzionamento è semplice e di fatto noi quello che potremmo fare se volessimo applicarlo a questo potremmo dire sei nato nell'anno lo trasformo in una f stringa quindi ho semplicemente messo un f davanti e poi anziché mettere fuori dalla stringa lo metto dentro la stringa tra parentesi graffe l'espressione non vale solo questa è la regola generale di tutta la programmazione dove ci metto una variabile dove ci metto un valore posso anche metterci un'espressione aritmetica anche più lunga e quindi lui stamperà sei nato nell'anno spazio poi dentro la parentesi graffe trovi un'espressione ne calcolo il valore e stamperà quel valore idem il nome quando devo stampare il nome posso stamparlo anziché stampo il messaggio virgola il nome finché sono due cose un messaggio e un valore è facile quando si complicano i messaggi invece diventa più pesante quindi anche qua potrò trasformarlo in una f stringa e mettere il valore che devo stampare direttamente dentro la f stringa sia che sia il nome sia che sia il nome punto a per anche qua non è un valore semplice di una variabile ma è un'espressione e dovrebbe funzionare esattamente nello stesso modo di prima così ovviamente funziona nello stesso modo di prima con una sintassi un pochino più leggera perché queste stringhe che sto stampando sono più esplicite qui ci stampo questa cosa può essere una singola variabile stampo il nome può essere un'espressione che contiene quella variabile con un'espressione arimetica con delle funzioni applicate con dei metodi applicati non ci importa l'importante è che appunto Python valuta ciò che c'è da parentesi grafe e lo inserisce in quel punto preciso fin qua non avremmo fatto grossi passi avanti perché comunque anche qua se io facessi due dettagli il primo dettaglio è che questa operazione di f stringa non funziona solamente con la print posso usarla in ogni caso quindi io potrei vado nella console dire che una certa stringa s scusate che il valore è uguale a un terzo ok e poi posso costruire una stringa che contiene un messaggio f string il risultato è valore questa stringa non la so ancora stampandola semplicemente calcolata ce l'ho qua con la variabile e il risultato è 0,3333 poi se voglio quando voglio se mi serve la stampo posso poi stampare questa s quindi posso usare un f string in qualunque contesto anche solo quando sto costruendo facendo delle operazioni con le string al posto della concatenazione se vuoi fare una concatenazione complicata posso usare un f string che mette già tutto insieme e poi se voglio la stampo però come si vede da questo esempio ho fatto un passo avanti se vogliamo sintattico quando ho definito questa s altrimenti avrei dovuto scrivere il risultato è chiuse virgolette più str di valore qui l'ho semplificato un po' ma non ho cambiato il risultato alla fine mi stampa sempre quante cifre decimali vuole lui fa la conversione ma la fa in automatico ok come faccio a controllare le conversioni che fa lo posso fare specificando dei dettagli in più dentro la parente di graffe e qui c'è una mini sintasi un mini linguaggetto in cui se io oltre a una variabile ho un'espressione armetica che usa quelle variabili metto due punti dopo i due punti ho la cosiddetta specificazione di formato cioè ti dico come questo viene stampato e questo è tutta una serie di caratteri particolari caratteri speciali che comandano come viene fatta questa conversione ad esempio noi avevamo il nostro risultato la stringa il risultato è il valore io potrei dire che questo valore lo voglio espresso su con due cifre decimali allora ci metto il punto 2 per dire guarda voglio decidere io qual è il formato e poi punto 2 mi dice guardate qua s il risultato è 0,33 se tolgo s da davanti vediamo direttamente la stringa formattata il risultato è 0,33 cioè io che cosa ho fatto ho modificato il criterio di formattazione non ho usato quello automatico e per modificarlo metto il due punti più una serie di caratteri di comando in qualche modo che sono riassunti essenzialmente in queste quattro slide allora essenzialmente come ho fatto la specifica di formato in un f stringa quindi vale solo dentro le parenti graffe metto una variabile un'espressione di cui voglio inserire il valore e se voglio cambiare o comandare il modo in cui avviene questa formattazione ci metto i due punti e poi una serie di caratteri molti sono opzionali però i due più importanti li ho messi qua in grassetto che sono l'ampiezza cioè quanto spazio deve occupare questo numero se non dico nulla occupa lo spazio che gli serve non di più non di meno e un campo precisione cosiddetto che per essere riconosciuto dall'ampiezza è un numero la precisione è un numero preceduto dal puntino che indica quante cifre decimali voglio usare quello che ho usato nel mio esempio quindi io potevo dire anziché semplicemente punto 2 potevo mettere 10.2 avrei detto occupa 10 posizioni 10 caratteri e quindi se ce ne sono se il numero è più corto perché in realtà ho solamente chiesto due cifre decimali ci ha messo davanti degli spazi quindi se dovessi stampare una serie di numeri definisco qual è il formato e so che tutti i numeri occuperanno esattamente 10 caratteri eventualmente ci mette lui da solo degli spazi davanti e avranno tutti sempre due cifre dopo la virgola quindi il formato più semplice forse quello più utile è proprio questo cioè la ampiezza totale punto numero di cifre decimali è uno delle mille combinazioni possibili che si possono ottenere io non vorrei impazzire a vederle tutte ad esempio lui può dire va bene anziché lo spazio davanti magari metti un carattere di sottolineatura e allora se metto questo davanti lui mi farà quindi dopo i due punti prima dell'ampiezza forse no ok non funziona non lo so fare c'è una carattere di allineamento che può essere a sinistra centrato a destra cioè in questi 10 spazi lui l'ha allineato il valore a destra perché ha dovuto riempire degli spazi se io mettessi spero stavolta mi venga il minore esatto lui occupa 10 spazi ma il numero lo allinea a sinistra e aggiunge gli spazi a destra anziché viceversa allora normalmente se io stampo dei numeri conviene incolonarli a destra se stampo dei testi dei nomi li conviene incolonarli a sinistra e quindi ho questo carattere che se inserisco cambia l'ordine di allineamento in realtà ho questi 3 4 possibilità a linea sinistra a linea destra che è il default per i numeri l'uguale è una cosa strana che bisogna leggere di fatto mette lo spazio dopo il segno ma prima delle cifre quindi più spazio spazio 3 è una cosa strana se vuoi incolonnare i segni più e meno e poi incolonnare i numeri a parte e il cappelluccio qua a linea invece al centro al centro dello spazio disponibile ci sono mille dettagli il segno lo voglio far vedere o no quindi in caso in cui il numero sia positivo voglio che si stampi anche il più oppure no oppure il segno lo voglio solamente in caso in cui sia negativo e così via se andate a vedere questi link ci sono anche qua paginate di spiegazione di come interagiscono tutti i vari caratteri diciamo così di formattazione tra di loro e poi posso avere dopo guardiamo la regola generale i due punti saltiamo le cose che non ci interessano l'ampiezza la precisione e eventualmente un tipo di conversione lui normalmente cerca di capire che criterio di conversione è usare a seconda del tipo del valore se è un intero se è un reale se è una stringa ma io poi posso forzarglielo pescando uno di questi tipi nel caso di string quella è nel caso di interi posso decidere che la voglio stampare in base 2 in base 10 in base 8 in base 16 ad esempio nel caso di floating point posso forzare la notazione esponenziale stampa la notazione esponenziale oppure stampa la notazione fissa quindi non rare mai l'esponenziale anche se ne avresti voglia sono mille varianti per fortuna noi cerchiamo di non diciamo così complicarci troppo la vita di non andare quindi non andiamo a perdere appunto le giornate andare a considerare tutte le possibili varianti qui ci sono le tabelle riassuntive per ciascuno di queste voci appunto ai link che sono citati qua ci sono delle spiegazioni in più ma per il tipo di formatazione che serve a noi essenzialmente nella maggior parte dei casi l'ampiezza la precisione e al massimo l'allineamento per allineare sinistra-destra sono sufficienti quindi il tipo di string di formato che faremo sarà grosso modo di questo tipo non tanto più complicate poi non nego che magari in qualche caso particolare bisogna sfruttare qualche potenzialità in più però non mettetevi sicuramente a imparare a memoria tutti questi caratteri tutte queste simbologie quindi qui che cosa abbiamo fatto abbiamo condensato in un formato molto sintetico che è questo delle f stringhe due operazioni una conversione da numero a stringa perché forse oggi a stringhe non servirebbe tutto questo casino da numero a stringa con delle regole che decido io e poi la composizione dei vari valori in un unico messaggio in un unica stringa fatta comodamente e come piace a me quindi quando dovremmo stampare dei valori all'interno del nostro programma questa è la via maestra se non ho bisogno di formazione particolare semplicemente parente di graffe ci schiaffa la variabile il nome della variabile altrimenti se poi devo modificarlo solo dove andare a fare ricordiamoci del due punti ampiezza punto precisione diciamo che era ciò che ci serve nelle slide sono spiegati ma come dicevo ve lo salto la formatazione col percento che usa un linguaggio di formatazione che è leggermente diverso gli somiglia tanto ma non è proprio uguale quindi magari è meglio evitare di confondersi guardandosi a uno che l'altro quindi ve la lascio nelle slide ma le saltiamo tranquillamente sono alternative quindi se noi scegliamo di usare sempre le f string possiamo fare solamente con quelle e sono quelle che più facili da usare e tutto questo per arrivare effettivamente al punto interessante che se vogliamo ci agganciamo alla input in cui abbiamo detto è bravo però il dato che ha inserito l'utente in qualche modo devo controllare se è giusto oppure no e il programma dovrò fare cose diverse a seconda che il dato sia giusto oppure sbagliato devo fare il triangolo di teorema di Pitagora quindi il triangolo è un triangolo rettangolo e lui mi mette che il dato il lato scusatemi un cateto è lungo meno 7 oppure mi dice che il cateto è lungo punto esclamativo cosa faccio in quel caso? in quel caso devo permettere al programma di prendere percorsi diversi in funzione di alcune relazioni esistenti tra i dati in possesso del programma quindi se questa variabile è diversa da questa è maggiore di è minore di è troppo lunga è troppo corta allora faccio certe cose questo in Python come praticamente tutti i linguaggi di programmazione si controlla attraverso un costrutto che è il costrutto if l'istruzione if permette di implementare una scelta nel flusso di esecuzione del programma permette di isolare una parte di programma che viene eseguita solo se si verificano certe condizioni e un'altra parte del programma che viene eseguita solo se non si verificano quelle condizioni ok? quindi se io volessi fare un programmino sul triangolo di rettangoli quindi chiamiamolo Pitagora dovrò leggere i due cateti quindi cateto 1 uguale float input di cateto 1 poi farò cateto 2 coppia e incolla qua cateto 2 uguale float di input dammi cateto 2 e alla fine normalmente il programma cosa fa? la calco all'ipotenusa come? come la radice quadrata della somma bla 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 allora SQRT abbiamo imparato che SQRT è nell'ebrie matematica e quindi chiediamoli di importare da mat la funzione SQRT di cateto 1 al quadrato più cateto 2 al quadrato e poi possiamo dire che il triangolo di lati cateto 1 virgola cateto 2 è ipotenusa vedete che quando io scrivo dentro le parentesi graffe di un f string PyCharm se ne accorge e mi permette già di completare il nome della variabile quindi è molto comodo da questo punto di vista quindi se funziona lo eseguiamo cateto 1 3 cateto 2 4 e l'ipotenusa sarà 5 il triangolo di lati 3.0 4.0 5.0 e ovviamente non avendo noi fatto nessuna particolare attenzione alla formattazione ha deciso lui di metterci una cifra dopo la virgola ma va bene se volessimo avere più controllo sappiamo come farlo per ora ci va bene così ecco cosa succede invece se l'utente inserisce come dicevamo ad esempio un cateto negativo meno 4 meno 6 lui mi dirà che è un triangolo di lato meno 4 meno 6 e 7,21 che ovviamente è una castroneria no? adesso poi arriva il prof di matematica quindi non facciamogli a vedere devo evitare che il programma vada avanti quando ha ricevuto dei dati palesemente sbagliati ok? e come faccio? posso controllare se si verifica una condizione anomala in quel caso faccio una cosa altrimenti ne faccio una diversa a questo serve l'istruzione if che semplicemente ci richiede di specificare qual è la condizione che voglio verificare ad esempio if cateto 1 è minore o uguale a 0 non va bene allora devo stampare un messaggio di errore anziché proseguire con il programma quindi dal punto di vista della sintassi si scrive if una condizione che è molto spesso un confronto due punti quando scrivo due punti e se battete invio in pipe charm vedete che il cursore vi viene rientrato tutto ciò che scriviamo rientrato sotto l'istruzione if è condizionato la sua esecuzione è condizionata dalla verità della condizione che è stata espressa cioè queste istruzioni qua io scrivo delle istruzioni a caso abc non me lascio scrivere questi abc saranno eseguiti solo se il cateto 1 è minore o uguale a 0 se il cateto 1 fosse positivo non verranno eseguite quelle istruzioni nella riga 7, 8 e 9 poi io posso decidere che le istruzioni da eseguire in modo condizionale sono finite sono solo quelle e posso proseguire col programma facendo D e F D e F sono tornato indietro non sono più rientrate in colonnate sotto la if e quindi non sono più condizionate non fanno più parte delle istruzioni condizionate dalla condizione cateto 1 minore o uguale a 0 ok? quindi e questa è una regola sintattica generale del Python tutte le volte che ho due punti questo apre un ambito annidato all'interno del quale ci possono essere delle istruzioni rientrate in colonnate per segnalare la fine di questo ambito annidato di queste istruzioni dipendenti semplicemente io esco dal rientro quindi questi spazi non sono per abbellimento per ordine che già ci starebbero bene come ordine ma hanno anche un significato finché mantengo il rientro quelle istruzioni sono eseguite solamente in quel caso quando esco dal rientro saranno eseguite in ogni caso ok? in altri linguaggi di programmazione ci sarebbe una parentesi graffa aperta qua e una parentesi graffa chiusa sotto per dire da qui a qui in Python non ce n'è bisogno c'è il due punti e ci sono gli spazi che ti obbliga anche a scrivere codice ordinato esiste poi sempre nell'istruzione if un'altra clausola che si chiama else altrimenti quindi in questo caso potrei avere x y e z altre istruzioni allora cosa fa questo codice? quando l'esecuzione arriva qui controlla quella condizione la cosa è una condizione? è un'espressione che ha come risultato un vero o un falso sì o no quindi questa condizione può essere verificata o non verificata se è verificata vengono eseguite tutte e sole le istruzioni che sono rientrate indentate annidate sotto il ramo if quindi questo lo possiamo chiamare il ramo vero della if della scelta se la condizione è vera eseguite queste istruzioni poi ho la clausola else che come vedete non è più rientrata sono tornato indietro sono allo stesso livello della if perché dice se questo fai certe cose che sono rientrate altrimenti sono tornato indietro ho finito di fare le cose rientrate fai altre cose questo è il ramo falso della scelta cioè queste istruzioni vengono eseguite tutte le volte che quella condizione sopra cateto minore o uguale a zero è falsa ossia in questo caso sottinteso è cioè in questo caso cateto uno maggiore di zero in questo caso i due rami if e else il ramo vero e il ramo falso sono sempre mutuamente esclusivi o passo dall'uno e salto il secondo o salto il primo ed eseguo il secondo il ramo else può esserci o non esserci a scelta nostra ok queste istruzioni che sono sotto diciamo sono istruzioni sono fuori dalla scelta quindi verranno eseguite sempre e comunque dopo aver eseguito abc oppure dopo aver eseguito xyz a seconda di quella condizione che sia vera o falsa allora andrò a eseguire d e f che è il codice che c'è lì sotto ok allora come si usa un costrutto di questo genere nel nostro caso e nel nostro caso noi potremmo dire diciamo che tutta questa parte qua fatemela spostare in fondo e la lasciamo come commento per ricordarci la spiegazione ma adesso dobbiamo scrivere il programma vero e proprio allora ad esempio potremmo replicare di nuovo se il cateto 1 ha un valore che non mi piace cioè minore o uguale 0 allora potrò dire senti il cateto deve essere positivo un numero positivo e mi fermo qua non faccio altri calcoli e mentre tutto il resto cioè il calcolo dell'ipotenusa e la stampa dei lati del triangolo la farò in questo caso nel ramo ELS o poi dobbiamo controllare anche il cateto 2 non me lo sto dimenticando quindi se il cateto 1 è minore o uguale 0 sono in una condizione anomala e il programma farà una cosa particolare stampa un messaggio di errore altrimenti non sono in condizione d'errore quindi sono in condizione normale il programma farà i calcoli che deve fare che abbiamo visto prima che funzionano nel caso in cui i dati siano normali ricordatevi io prima ho provato il caso semplice l'abbiamo provato e ci abbiamo messo dei numeri poi ci ho aggiunto dei pezzi adesso proviamo i pezzi cambiati ricordatevelo sempre scrivo 3 righe 4 le provo poi ne aggiungo altre 2 3 4 le provo altrimenti ne scrivete 40 e non funziona niente allora vediamo cosa succede in questo caso faccio run di questo se io gli metto dei valori sensati tipo 3 4 5 3 4 scusate lui mi calcola 3 4 5 e funziona esattamente come prima perché funziona esattamente come prima ma perché quella if è di fronte a una condizione che in quel momento è falsa perché cateto 1 vale 4 la condizione 4 minore o uguale 0 è falsa e quindi il costrutto if decide di non eseguire le istruzioni della riga 7 e passa direttamente a eseguire le istruzioni nel ramo else più eventuali istruzioni che ci fossero dalla riga 12 in avanti cioè quelle fuori dalla if se invece inserissi un dato sbagliato quindi meno 2 meno 3 meno 3 cateto 2 perché non si accorge subito che meno 3 è sbagliato è perché io ho fatto prima la input di cateto 2 e poi dopo il controllo quindi la input del cateto 2 la fa comunque è giusto o non è giusto ci pensiamo tra un attimo inserisco il dato 2 a questo punto lui vede che il cateto 1 vale meno 3 e mi dice che il cateto 1 deve essere un numero positivo quindi fa questa print e come vediamo non stampa triangolo di lati perché in queste due istruzioni 9 da 10 non le farà mai ok? quindi se voi ve lo visualizzate come diagramma di flusso noi abbiamo le input all'inizio poi c'è un bel rombo che dice cateto 1 minore di 0 da un lato c'è sì è minore di 0 e quindi stampa l'errore dall'altro lato no non è minore di 0 e quindi maggiore di 0 e allora calcola l'ipotenusa e stampala ok? adesso abbiamo controllato un dato e per controllare il secondo come possiamo fare possiamo fare in due modi uno è applicando ciò che già conosciamo dobbiamo aggiungere da qualche parte fatemelo scrivere sotto poi la spostiamo dove mi dite voi if cateto 2 minore o uguale 0 devo anche controllare se il cateto 2 è minore o uguale 0 minore o uguale allora messa alla riga 12 questa cosa qua non serve a niente è troppo tardi messa alla riga dopo la riga 7 non serve a niente oramai so già che il cateto 1 è negativo e che me frega di controllare il 2 comunque il problema non si può risolvere quindi a me verrebbe da metterla qui prima dell'ipotenusa del calcolo dell'ipotenusa cioè io in quel ramo else sono sicuro che il cateto 1 è ok non sono ancora sicuro del cateto 2 allora prima di andare avanti controlliamo il cateto 2 ma si può? cioè io posso mettere un'istruzione if dentro un'altra istruzione if sì perché no si applicheranno le stesse regole quindi avrò un ramo vero cioè se il cateto 2 è minore di 0 stampo che il cateto 2 deve essere un numero positivo altrimenti else due punti faccio queste altre istruzioni attenzione che queste istruzioni devono essere rientrate per rientrare di blocco o rientrare usate il tasto tab oppure shift tab no? rientra un blocco di istruzioni per volta dopo che le avete selezionate quel calcolo di ipotenusa deve essere calcolato solo se questa condizione qui che ho scritto male questa condizione è falsa ok? quindi questo programma può fare può fare tre percorsi diversi se la prima condizione è vera stampa il cateto 1 non va bene se la prima condizione è falsa e la seconda è vera quindi condizione falsa vuol dire che il cateto va bene se la prima condizione è falsa e la seconda è vera vuol dire che il cateto 2 è sbagliato mi stampa il cateto 2 è sbagliato e non fa altro se entrambe le condizioni sono entrambe false allora poiché la prima è falsa entra in questo else poi in questo else ci sono queste istruzioni adesso mi dimentico di dove suona non mi importa vado a valutare questa if che ha un suo ramo vero e un ramo falso poiché questa seconda condizione abbiamo ipotizzato che fosse anch'essa falsa andrà a eseguire il ramo falso quindi è l'else di un else che viene eseguito solo se entrambe le condizioni che incontra sono entrambe false dimmi ci sono altri almeno due modi di farlo che adesso vediamo però prima volevo quindi immaginiamoci un po' il diagramma di flusso di questa cosa ho un primo rombo e in uno dei due rami di questo rombo ho un altro rombo che a sua volta divide in due l'esecuzione e quindi mentre vado avanti nel flusso di eseguzione farò cose diverse e lo scoprirò a run time andando a interrogare le variabili che ha inserito l'utente ok? questo è se vogliamo il costrutto base if else è fatto di tre pezzi la condizione il ramo vero e il ramo falso sintaticamente il ramo vero e il ramo falso si identificano dal rientro e basta l'unica cosa con cui dovete fare attenzione è che l'else deve essere incolonnato con la if se mettete l'else qua non funziona perché sembrerebbe quasi che fosse dentro questa ma l'else è allo stesso livello è un'unica istruzione if else e la potete combinare come volete adesso vedremo alcune variazioni sul tema e alcune semplificazioni conoscendo un pelino di sintassi in più dimmi si 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 è una delle variazioni che voglio fare allora innanzitutto c'è una prima se vogliamo stranezza io ho impostato questo controllando se il cateto è sbagliato allora sapremmo riscrivere questo invece controllando se il cateto 1 è maggiore di 0 cioè poi immaginiamo di rovesciare tutto e dire vediamo se il dato è corretto usando sempre lo stesso schema allora in questo caso vuol dire che nel ramo vero devo fare i calcoli devo fare i calcoli solo se anche l'altro cateto è a posto quindi if anche il cateto 2 è maggiore di 0 allora in questo caso farò questo calcolino ho girato le condizioni quindi se la prima condizione è vera vado a vedere la seconda se anche la seconda è vera faccio il calcolo e poi a questo punto ho due else che è l'else più interno che è relativo alla condizione più interna che se fallisce mi dice che il cateto 2 è sbagliato e poi un altro else che però deve essere allineato con la prima if che invece va verrà eseguito quando la prima condizione è sbagliata quindi proviamo a guardarlo se cateto 1 è maggiore di 0 faccio questa parte qua se non è maggiore di 0 quindi minore uguale da questa if salto al suo else corrispondente infatti dirò che il cateto 1 non va bene se invece il cateto non va bene vado a valutare questo blocco che è il blocco corrispondente al ramo vero della prima if questo blocco a sua volta contiene una seconda if il suo ramo vero avviene solamente se il cateto 2 è maggiore di 0 e quindi faccio i calcoli sapendo già che l'1 era già maggiore di 0 perché se no non sarei arrivato qui se invece il 2 non è maggiore di 0 vado nel ramo S e stamperò un messaggio sul 2 questo è un altro modo dipende un po' come approcciate il ragionamento fa esattamente la stessa cosa poi altri modi di girare questa stessa identica cosa vabbè qui fa vedere la sintassi e i diagrammi di flusso ma dove è andato scusate qui la conta lunga ma volevo arrivare allora alle condizioni perché qualcuno di voi ha detto ma non posso scrivere entrambe le condizioni insieme sulla stessa riga sulla stessa if controllarli entrambi sì allora spendiamo un attimo di tempo per capire come costruire una condizione la condizione di solito si costruisce usando degli operatori di confronto che ti danno le condizioni elementari se un numero maggiore minore maggiore uguale dell'altro possono essere operatori che lavorano su numeri ma possono anche lavorare su string nel caso in cui i dati fossero di tipo string posso chiedermi se due string sono uguali se sono diverse ecco l'unica particolarità bisogna ricordarci che l'uguale si scrive uguale uguale e il diverso si scrive punto esclamativo uguale il resto si scrive semplicemente col maggiore col minore due string sono uguali se solo se tutti i caratteri sono della stessa lunghezza e tutti i caratteri nelle stese posizioni sono identici quindi se ci sono almeno un carattere diverso oppure anche solo la differenza potrebbe essere anche solo la differenza tra maiuscolo e minuscolo sono da considerare stringhe diverse altrimenti sono considerate uguali questo lo dico dopo dove è finito vabbè vi rispondo nelle slide più avanti ma vi rispondo subito visto che è emersa la questione se io volessi combinare tra di loro più condizioni lo posso fare usando degli operatori logici cioè io posso dire prendiamo il secondo nel secondo caso se cateto 1 maggiore di 0 e contemporaneamente cateto 2 è maggiore di 0 ho un operatore così come ci sarà l'operatore or che usiamo nel caso inverso che combina tra di loro due condizioni che quasi sempre sono i confronti e soddisfa la condizione solo se entrambe le componenti siano entrambe vere quindi in questo caso se cateto 1 maggiore di 0 e contemporaneamente cateto 2 è anche lui maggiore di 0 quindi questo pezzo di condizione è vero e quest'altro pezzo di condizione è anche lui vero allora posso fare il calcolo e mettiamo qua questo pezzo rientrato al livello giusto cosa mi sono perso qua che se io devo stampare messaggi d'errore non so più chi dei due aveva sbagliato no? e quindi dovrò dire vabbè uno dei cateti almeno uno dei cateti dei cateti non era cateti non era positivo se volessi davvero stampare lo stesso messaggio d'errore cosa dovrei fare qui dentro un'altra if che va a vedere ma allora senti era il primo o il secondo allora stamperò o il primo o il secondo se volessi fare lo stesso giochino queste sono tutte alternative quindi separiamole tutti i modi diversi di fare esattamente la stessa cosa se volessimo usare questo operatore si chiamano operatori booleani operatori logici connettivi logici nel primo caso nel caso in cui controllavo se le condizioni erano sbagliate avrei scritto se cateto 1 è minore di 0 oppure or cateto 2 è minore di 0 perché entro in una condizione di anomalia se uno o l'altro o tutti e due sono negativi negativi non scrivo un end qua se avessi scritto end sarei caduto in questa condizione solo se nell'intersezione dei due casi quindi quando entrambi erano negativi no io sono in condizione di errore se almeno uno dei due è negativo quindi devo fare l'unione dei casi dal punto di vista logico devo fare un or dei due casi allora a questo punto stamperò vado a rubare da sotto il messaggio generico perché so che uno almeno uno dei due non è positivo ma non so quale altrimenti faccio il calcolo ok quindi posso costruire delle condizioni semplici o posso costruire le condizioni più complesse combinandole con gli operatori logici end e or che combino tra di loro i vari pezzi di condizioni e mi permetto di specificare la regola che voglio verificare un altro modo un'altra aggiunta diciamo così all'istruzione if prendiamo il primo caso fatemi ricostruire l'inizio di questo primo caso ero arrivato qua allora vedete cosa succede qua qui avevo un else immediatamente seguito da un if nel secondo caso non ce l'avevo avevo una catena di if e poi c'era gli else che andavano a risolvere ma nel primo caso avevo un else immediatamente seguito da un if allora visto che questo succede spesso esiste una variante dell'istruzione if che mi permette di semplificare questa e ti permette di inserire qua un'istruzione che si chiama elif else if in cui posso mettere un'ulteriore condizione che in questo caso sarebbe questa e quindi in questo caso metterò il cateto 2 deve essere positivo e poi posso continuare a questo punto potrei avere altre condizioni altrimenti se vi dico qualcos'altro elif elif poi finalmente scriverò else quando ho finito di controllare tutte le condizioni e qua in questo else tamperò questo allora che differenza c'è tra queste due formulazioni la prima e la seconda semanticamente è la stessa cosa funziona in modo identico controllo queste condizioni controllo la prima se la prima è vera vado a controllare se la prima è falsa scusate vado a controllare la seconda se tutte sono false arrivo all'else finale dove faccio il lavoro è un po' come se tu avessi una serie di porte di cancelli da passare devo passare il primo se mi bloccano mi bloccano subito altrimenti vado avanti c'è un secondo cancello altrimenti vado avanti c'è un terzo e poi finalmente c'è il punto d'arrivo in cui faccio il lavoro è la stessa cosa ma se notate nel secondo caso ho meno rientro del codice questo elif è allo stesso livello dell'if mentre questo if è internal else e quindi se avessi tanti cancelli da passare tante condizioni intermedie da verificare avrei un codice che rientra moltissimo e poi devo tenere conto del numero di clienti da togliere poi via via che esco invece con l'if riesco a fare organizzare una catena di controlli in sequenza rimanendo sempre allo stesso livello di allineamento è un'istruzione unica io prima vi ho detto parzialmente mentendo l'istruzione si chiama if else no l'istruzione si chiama if e l'if else e l'if l'if e l'es vanno tutti sullo stesso livello quindi è semplicemente un modo più semplice che ci evita di dover fare rientri successivi nel caso in cui debba fare dei controlli a cascata il caso generale è il primo il primo che abbiamo scritto funziona funziona sempre tutte le altre variazioni che abbiamo visto sono modi diversi di affrontarlo o conoscendo e sfruttando gli operatori logici and e or e quindi costruendo in un'unica if facendo un controllo più complicato non dei controlli banali oppure appunto conoscendo le if si poteva scrivere in modo più semplice un pochino più snello ma la sostanza è la stessa noi potremmo scrivere indifferentemente in ciascuno di questi modi ok questo è il costituto di base domani ci facciamo sopra un esercizio insieme buon appetito o buon pomeriggio grazie 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 grazie